Sotto lo strato di nuvole che occupano L'Occidente sta tramontando l'ultimo lembo di sole, appena sopra il porto turistico di Ostia. E' uno spazio minimo per la visibilità di queste sole, e comunque è concesso l'osservazione. Adesso possiamo vedere se si vede il ragione. Questo è il terminato alle 20.18.58, dietro un orizzonte di qualche primo, che costruisce qualche primo anno. Ecco l'orario, Ostia, Pontile. Grazie. 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 Grazie.